Uno batte per Mega CD e solo chi è Mega può avere Mega CD. Unisci la potenza di Mega Drive alla perfezione digitale. 16 bit più 16 bit uguale... Conquista il tuo nuovo mondo. Il mito di Siga. Mega CD non sono un CD. Mega CD, CD audio e CD video finalmente insieme. Mega CD da Siga e giochi preziosi. Grazie.